Marcella Stasio, 36 anni da quasi 30, affetta da una patologia che hai avuto il coraggio e anche la forza di raccontare in un libro che si intitola Un giorno credi. Quello che è stato un tuo diario, se vogliamo anche uno sfogo, perché tu hai dovuto lottare non soltanto con la patologia, non soltanto con la malattia, ma anche molto spesso con una speculazione sanitaria. Sì, è vero. Purtroppo i danni che si vedono su di me sono le conseguenze di cure sbagliate e di medici che hanno approfittato della situazione di persone disperate. L'artrite romatoide non è curabile, però può essere tranquillamente tenuta sotto controllo e può non fare i danni che si vedono su di me oggi. 30 anni fa ovviamente la ricerca non era avanzata come quella di oggi. Che cosa scrivi tu in questo libro e che tipo di vita hai tu adesso? Nel libro racconto tutti i miei drammi, le angosce, le sofferenze e anche le denunce verso una mala sanità che purtroppo mi ha causato dei danni irreparabili. Oggi vivo come una persona qualsiasi di 36 anni e la particolarità è che si tratta di una persona handicappata perché, come ti ho detto, a causa dei danni che mi hanno causato i medici senza scrupoli ho dovuto subire diversi interventi di protesi articolare e cammino con due bastoni. Ciò nonostante comunque vado al lavoro, guido, faccio la vita quanto più possibile normale e va bene così. Sulla tua patologia che errori sono stati fatti? Tu parli di speculazione, fai delle accuse abbastanza mirate. Di che speculazione parliamo? Speculazione nel senso che poiché si sa benissimo come funziona la sanità in Italia, anziché pensare che si aveva a che fare con una bambina di soli sette anni, si pensava a tenerla ricoverata per anni e anni, rubandole veramente tutta l'infanzia di cui una bambina ha bisogno per formare il carattere. Il mio carattere invece si è formato con medici, infermieri che per fortuna erano persone umane ma non erano quelle che contavano per potermi aiutare. Hai detto prima, tu lavori in un call center ed è anche grazie al ruolo che rivesti nel tuo lavoro. Tu fai parte del sindacato della Wilcom Campania e molti dei fondi che vengono raccolti proprio dalla vendita del tuo libro, forse tutti i fondi vengono però devoluti ad un'associazione. Sì, allora grazie al coordinamento delle pari opportunità della Wilcom Campania di cui faccio parte abbiamo organizzato un grande evento al maschio angioino anche in collaborazione con il comune di Napoli e grazie sempre alla Wilcom abbiamo raccolto il 5 per 1000 per la dichiarazione dei redditi che va in beneficenza a sostegno dell'associazione Campana Malati Reumatici di cui faccio parte e ne sono vicepresidente e il ricavato delle vendite del mio libro, poiché purtroppo non esiste una somma che mi guarisce, il minimo che posso fare è darla a sostegno di chi come me si trova nella mia stessa situazione e non è stato poi fortunato come me ad avere tanti amici, tante persone che aiutano e che sono vicini. Tu sei fortunata, come dici tu, hai un fidanzato, hai un lavoro, che cosa auguri e soprattutto che cosa raccomandi? A chi si trova nelle tue stesse condizioni e soprattutto molto spesso è vittima di quella che tu denunci come malasanità? Allora, per i pazienti mi sento di dover dire che bisogna denunciare quando i medici non fanno il proprio dovere perché la salute non te la ripaga nessuno, non te la ridà nessuno, quindi qualsiasi cosa non va bene denunciate, non abbiate paura perché tanto morto un medico se ne fa un altro, però basta, basta con la malasanità perché ci sono dei danni veramente irreparabili, che la salute nessuno ce la può restituire e mi sento anche di dover dire ai malati siate positivi perché l'essere positivi vuol dire già 50% della guarigione cerchiamo di darci una mano anche moralmente e poi che Dio ci aiuti alla fine